Le malattie infettive sono causate da microbi, cioè da agenti microscopici. Ce ne sono di diversi tipi. Perché può essere interessante conoscerli? Perché si curano in maniera diversa e quindi capire le differenze vi aiuterà a curare meglio i vostri bambini. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Batteri, microbi, funghi, protozoi. Cioè lì ci sono anche delle cose che oggettivamente noi stessi padroneggiamo poco. Perché si rischia di andare in una materia davvero molto specialistica. Però noi siamo qui invece a chiarire le cose. E quindi per chiarire le cose la prima cosa che vi diciamo è la differenza fra i batteri e i virus. Allora innanzitutto cominciamo a dire che cosa sono i microbi. I microbi sono degli organismi piccoli piccoli che si possono vedere solamente con il microscopio. Addirittura i virus si possono guardare solo con il microscopio elettronico. Perché con il microscopio normale, il primo che è stato inventato, non si riuscivano a vedere. Quindi i primi microbi che sono stati studiati sono stati i batteri. Cosa sono i batteri? Sono degli organismi piccoli costituiti da una sola cellula che riescono a moltiplicarsi, se in situazioni favorenti, anche ogni 20 minuti. E quindi riescono a crescere in maniera esponenziale e possono essere molto molto patogeni. Cioè creare delle situazioni di patologia, ok? Delle malattie infettive anche gravi all'interno del nostro corpo. Dire che una malattia è infettiva non vuol dire che è contagiosa. Infettiva vuol dire che è causata da un microbo, da un battere, da un virus, eccetera. Contaggiosa è la malattia che è infettiva, ma che in più si può attaccare da uno all'altro. Per capirci, il tetano è una malattia infettiva, ma star vicino a uno col tetano non ti contagia. Viceversa il morbillo è estremamente contagioso. Basta entrare nella stanza e lo prendi. Abbiamo detto, e è la cosa più importante, che i batteri sono delle cellule. Cioè sono organismi finiti, eh? Sono organismi che hanno tutto quello che serve per moltiplicarsi. Hanno una parete che li contiene, hanno un nucleo dove c'è il loro DNA, che sono le istruzioni per replicarsi, e poi hanno la fabbrica delle proteine. Tenete a mente questa cosa, perché per i virus è completamente diversa. Siccome i batteri hanno questa capacità, sono anche però più deboli da un altro punto di vista. Cioè, noi abbiamo delle medicine che possono andare a colpire il batterio in ognuna di queste sue parti. Possiamo colpire la sua membrana, possiamo colpire le modalità con cui si attacca, possiamo colpire la sua fabbrica di riproduzione, possiamo colpire il suo stesso apparato riproduttivo, il nucleo. Abbiamo delle medicine che si chiamano antibiotici. Perché ne abbiamo tanti di antibiotici? Perché non vanno bene per tutto. Ci sono antibiotici che fanno un lavoro, per esempio sulla membrana del battere, e altri che agiscono viceversa sul meccanismo di replicazione. Alcuni batteri si difendono dagli antibiotici, con alcuni batteri un antibiotico funziona bene, con altri funziona male, insomma non è lavoro vostro. Però dovete sapere che non esiste un unico antibiotico buono per tutti i batteri, sennò sarebbe molto facile. Avremmo tutti in casa quello e saremmo a posto. Quindi gli antibiotici servono per curare le infezioni causate dai batteri. Fantastico. Quali sono? Tanto per capirci. La tonsillite da streptococco, lo streptococco è un battere. L'otite da pneumococco, lo pneumococco è un battere. Quello che dà la polmonite è un battere. Quello che dà la meningite, quello che dà la tubercolosi è un battere. Sono malattie estremamente varie e sono, se ci pensate, le prime malattie a essere state scoperte, cioè per le quali è stata scoperta la causa, proprio perché una volta avuta l'intuizione che c'era qualche cosa, si è andati a vedere e si è riusciti a isolare. Le malattie virali, quali sono? Beh, tristemente il Covid lo stiamo conoscendo tutti, ma prima del Covid il raffreddore è una malattia virale, la varicella è una malattia virale, l'influenza è una malattia virale, ma anche le encefalite delle zecche è una malattia virale. Quindi le malattie virali possono essere altrettanto pericolose di quelle dei batteri, ma dietro non c'è un batterio, ma c'è un virus. Che differenza fa? Cos'è il virus? Allora, il virus è anche lui un microbioma molto più piccolo di un battere, che non ha una cellula sua, quindi non ha una sua casa, ma necessita delle nostre cellule, di noi umani ad esempio, per replicarsi, perché altrimenti non riesce a replicarsi, per cui va a infettare una nostra cellula, si replica, quindi si riproduce, poi distrugge quella cellula lì e escono tanti virus replicati che vanno di nuovo a infettare delle altre cellule. Il virus va a scrocco per capirci, è come se avesse il manuale di replicazione ma non c'ha la fabbrica, allora deve usare la cellula perché la cellula ha in sé la fabbrica, le nostre cellule fabbricano cose, solo che hanno un software che dice fabbrica proteine, fabbrica zuccheri, fabbrica quello che serve. Beh, arriva il virus, cancella il software della cellula, si sovrappone al software della cellula e gli dice, no no, tu adesso invece di fabbricare quello che facevi prima fabbrichi copie del mio virus, di me stesso. E' questo che fanno i virus? si inseriscono nella cellula e la obbligano a produrre, a replicare, la fan diventare una produttrice di virus. Essendo più piccoli abbiamo detto i virus sono stati studiati molto più tardi, cioè dall'avvento del microscopio elettronico in avanti. I farmaci contro i virus sono molti meno rispetto ai farmaci contro i batteri. Gli antivirali esistono, ma ne esistono molti meno rispetto agli antibiotici e sono mirati solo per alcune situazioni particolari. Quindi la maggior parte delle forme virali che sono la maggior parte delle forme respiratorie dell'inverno non vengono curati con un medicinale specifico. Antivirali famosi per esempio sono la ciclovir che serve a combattere la famiglia degli herpes, quindi l'herpes, lo zoster, la varicella. C'è un antivirale per l'influenza anche se non è approvato per l'uso in pediatria, ma per gli adulti esiste un farmaco che ferma il virus dell'influenza. Ci sono gli antivirali contro l'AIDS che sono stati studiatissimi chiaramente quando l'AIDS era un'epidemia di proporzioni mondiali. Adesso sono allo studio antivirali contro il Covid, contro il SARS-CoV-2, cioè chiaramente dove c'è la necessità e l'investimento c'è la ricerca. Quindi è evidente che arriveranno degli antivirali disponibili anche per i comuni raffreddori, ma per il momento vale la regola se è un batterio do l'antibiotico, se è un virus no. Attenzione che questa cosa è molto importante. Quando noi vi diciamo il bambino ha la febbre e il mal di gola aspetti, non è perché ci divertiamo a farlo soffrire, ma perché cerchiamo di capire se è una forma nella quale può servire un antibiotico e allora glielo diamo, o se è una forma virale in cui dare l'antibiotico servirebbe solo a complicare le cose e gli farebbe anche venire la diarrea. Quindi per noi distinguere se è una forma batterica virale ha un'implicazione importantissima. Gli do l'antibiotico, non gli do l'antibiotico. Quali sono le situazioni in cui, per esempio, noi pensiamo a una forma virale. Abbiamo detto anche in altri video che le forme respiratorie invernali sono quasi tutte forme virali o perlomeno iniziano come forme virali quando non ci sono dei sintomi localizzati solo in una zona, cioè solo l'orecchio, solo la tonsilla, ma ci sono dei sintomi vari, quindi può esserci il raffreddore, la tosse, un po' il male all'orecchio, un po' il naso tappato, quando i sintomi sono vari. Chiaramente la febbre può esserci sia nelle forme virali che nelle forme batteriche perché è più sintomo di infiammazione. Certo. Se volete, da ultimo, vi possiamo raccontare anche che esiste un altro tipo di microbi che sono i funghi. Ah, certo. I funghi non sono così frequenti come si potrebbe pensare per una ragione semplice. Li teniamo fuori da noi. Cioè, il nostro apparato della pelle, delle difese immunitarie, fa sì che è davvero difficile che riesca a entrare un fungo all'interno dell'organismo. Succede solo a bambini e adulti fortemente debilitati. Una delle cose che ha permesso di scoprire l'AIDS è che questi pazienti facevano infezioni polmonari da funghi, che era una cosa assolutamente improbabile. Ok? Quindi noi dove li vediamo i funghi normalmente? Beh, sulla pelle. Sono molti meno di quelli che voi ci dite sarà un fungo e poi non è niente di tutto questo. Ma comunque, insomma, sulla pelle le micosi esistono. Sulla testa le micosi esistono. All'interno del condotto dell'orecchio, che è ancora pelle, le micosi esistono, ma francamente delle malattie da infezione di funghi sono davvero improbabili in pediatria. Poi, a voler fare propri sapienti sapienti, c'è un'altra categoria di microbi, che sono i protozoi. Ve ne nominiamo un paio, perché sono associati a malattie che sicuramente conoscete. La malaria e la toxoplasmosi. La malaria è una malattia diffusissima, in cui c'è questo agente infettante che passa dalla zanzara all'uomo e fa un sacco di guai. La toxoplasmosi, stesso discorso, passa dall'animale all'uomo. Che differenza c'è fra il protozoo e il batterio? Sono più complessi, sono delle mezze cellule, sono dei batteri che vorrebbero diventare simili alle nostre cellule dell'organismo, ma che evidentemente sono ancora a metà strada. anche contro i protozoi abbiamo delle specie di antibiotici, ma si tratta di medicine molto più pesanti da prendere. La terapia della malaria è impegnativa, sono farmaci davvero con effetti collaterali importanti. La terapia di molte forme protozoiche è una terapia che la giardia è un'altra forma di questa, è una roba che dà la dissenteria. Voi dite dissenteria per dire diarrea, ma non è così. La diarrea è quella che hanno tutti i bambini, la dissenteria è quella che si prende nell'acqua delle pozze inquinate dell'America centrale, cioè lasciamo stare. E la giardia, quella lì è una malattia molto impegnativa. Per dirvi, c'è un mondo difficile fuori, ok? Ed è un mondo che è fatto di tante possibili agenti che operano contro la nostra salute. Per alcuni di questi abbiamo delle cure facili, per altri abbiamo delle cure impegnative, per altri non abbiamo cure. Quindi, se il vostro pediatra vi dice aspettiamo e non diamo l'antibiotico, c'è un motivo. Molto probabilmente sta pensando che il vostro bambino abbia una forma virale, dove l'antibiotico non serve, anzi, potrebbe contribuire a indebolire ulteriormente il suo sistema immunitario. Per cui, fidatevi delle prescrizioni, dei consigli del vostro pediatra. Alla prossima!